Presidente, l'inizio è sempre una grande emozione, che tipo di emozione è per quest'anno? Sempre bello ripartire, le emozioni forse mi arriveranno dopo, adesso abbiamo fatto un po' di prove, però sicuramente il primo giorno è sempre da ricordare. Quest'anno abbiamo cercato di impostare anche il raduno in maniera diversa, per non essere sempre un po' abitudinari. Adesso stavo chiacchierando con Alessia Gennari, una ragazza a cui pensavo di voler avere a bustarsi già da un po' di anni. Adesso è arrivata, sulle nuove, diciamo, anziane, perché è giovane, avrà i suoi 27-28 anni, abbiamo costruito il solito mix esperienza e ragazze in prospettiva. L'esperienza ragazze in prospettiva è una squadra che riparte dall'ossatura dello scorso anno, ma con diverse aggiunte nuove. Intanto partiamo dall'ossatura e lo staff dei nostri allenatori, lo staff medico, fisioterapia, non è cambiato niente, quindi questo è, rispetto già all'anno prima, una base di partenza, nel senso che chi poi vivrà ogni giorno con le atlete per cercare di farle performare in più, sono rimaste le stesse. Dopodiché abbiamo perso magari le straniere, tipo Martinez, che era difficile da trattenere perché è complicato avere una giocatrice domenicana, ma credo che Enzo e Barbaro abbiano fatto un lavoro fantastico perché con le due americane, che tra l'altro hanno giocato in nazionale quest'anno e la bulgara in prospettiva, con le straniere ci siamo un po' sistemati. Dal punto di vista invece dell'esperienza, Gennari ha detto prima, dell'Igna, che arrivano e consolidate invece con Giuff, Stufi e le nostre stelline azzurre che sono le ragazze in prospettiva che noi cerchiamo sempre di avere qui a Palazzo. Tra l'altro abbiamo una specie di cambio di testimone, avete visto che l'anno scorso Berti è arrivata, poi piano piano ha fatto la sua esperienza, oggi è parte di trattare inamovibile, ha bottezzato, farà sicuramente il suo percorso e via così. Questa è un po' la nostra mentalità, il nostro progetto, ovviamente contornato dalla struttura che deve essere sempre migliorativa, è un work in progress, è una squadra che faccia sognare i nostri tifosi. Proprio sulla struttura c'è una casa Wiba che state e volete costruire? Da Wiba oggi siamo arrivati al 74%, vedevo, il 15 di ottobre se tutto va bene, se non è il 15 di ottobre perché noi giochiamo in trasferta il 15 di ottobre, quindi la settimana dopo dovremmo inaugurarla, sarà il grande salotto di tutti, di tifosi, giocatori, amici, giornalisti, quindi è una grande scommessa, speriamo di vincerla. E allora ci veremo anche noi, buona stagione, buca al lupo. Grazie mille, grazie.